15 giorni di senso unico alternato poi dall'11 giugno totale chiusura al traffico per 4 mesi di lavori che dovranno consegnare ai comuni di Ferrara Occhiobello e più in generale a tutti coloro che percorrono la statale 16 tra le province di Ferrara e Rovigo un ponte nuovo e sicuro. L'allestimento del cantiere da questa mattina sul ponte del Po prevedeva l'istituzione del senso unico alternato ma è partito con un po' di ritardo a causa della pioggia. Movieri e semafori regoleranno la viabilità nella fascia oraria dalle 7 alle 17 dal lunedì al venerdì per consentire l'allestimento dell'impalcatura e del cantiere. Per quanto riguarda i passaggi ciclopedonali questi saranno definitivamente chiusi per tutte le 24 ore fino al termine dei lavori quindi da oggi pedone e biciclette non possono più transitare sulle passerelle del ponte. Poi dall'11 giugno per 4 mesi il ponte rimarrà totalmente chiuso alla circolazione. Le alternative saranno il treno con Ferrovie dello Stato è stato raggiunto l'accordo per le fermate aggiuntive a Occhiobello, il traghetto per cicli e pedoni e l'autostrada a 13 con l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale che interesserà i residenti domiciliati nei comuni interessati dalla chiusura del ponte. Ferrara, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Fiasombettiano, Canaro e Pincara. Bisognerà essere dotati di telepass e l'esenzione ci sarà solo se si entra il casello di Occhiobello e si esce a Ferrara Nord e viceversa. Chi non è dotato di un telepass potrà stipulare gratuitamente per sei mesi un contratto telepass family in un qualsiasi punto blu, nelle banche e uffici postali convenzionati con telepass spa o sul sito www.telepass.com.